che bello fare i giri in bici masha si è divertentissimo io adoro andare in bicicletta dai scegliamo il posto adatto per fare il nostro campeggio a me qui piace tantissimo che dici ci fermiamo? si dai anche a me piace pieno di alberi sarà bellissimo stare qua stanotte bene abbiamo portato tutto ci sono i sacchiappello c'è la torcia sono contentissima sono super emozionata si anch'io e dire che orso diceva che non sarei dovuta venire che avrei avuto paura ma di cosa anzi guarda io faccio anche un giro con la bici contro gli alberi stai attento però masha oh 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 masha sei caduta eh eh sì dai che ti aiuto non passare in mezzo ai rami hai ragione dai tiriamo fuori tutto da cappello io voglio quello giallo io prendo quello blu perché è più grande e io sono più grande di te eh eh sì è vero poi cosa abbiamo? cosa abbiamo? cosa abbiamo portato da mangiare? uh quante cose buone che bello ah penso che questo sia uno dei giorni più belli della mia vita ah 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 che delizia questa cioccolata calda quanto è buona sì è vero è buonissimo io adoro il cioccolato ma chi lo dici? ah che bello passeremo la serata oh che bello che gusto a bere cioccolata calda a guardare le stelle e poi a fare tanta nanna sì che bello io adoro il campeggio ma tu non avevi mai fatto i campeggi masha? no orso non me li faceva mai fare ma adesso lo convincerà a venire in campeggio con noi la prossima volta sì mi sembra un'ottima idea che bello come si sta bene sono così rilassata oh mi stendo anche io oh si sta veramente bene oh inizia a fare buio eh sì hai ragione che dici ci mettiamo sotto nel nostro sacca pelo? sì dai anche perché io ho un po' sonno peppa anche io si sta bene dentro il sacca pelo? oh sì si sta una meraviglia quando torneremo a casa dirò alla mamma che nella mia camera vorrò il sacca pelo invece del letto si sta molto meglio sì è vero allora buonanotte peppa buonanotte masha fai tanti sogni d'oro anche tu peppa hai sentito? sì che cos'era? non lo so ho paura accendiamo la torcia sì va bene peppa sì sono qui masha cosa sta succedendo in questo bosco? non lo so oddio ho paura voglio tornare a casa non possiamo adesso tornare a casa ma è un bosco stregato ahhh un fantasma aiuto ma dove siamo finite? non lo so forse aveva ragione orso guarda quel gufo come ci guarda aiuto 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 che paura che paura oh come faremo? non lo so io non voglio stare qui tutta la notte oh nemmeno io sono veramente terrorizzata fantasmi andate via non fateci del male ve ne prego oh mamma mia guarda quell'albero pedale veloce peppa pedale veloce pedale veloce 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 oh siamo arrivate orso 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 aprici aprici mamma mia che paura me la sto facendo sotto non è che ci hanno seguito i fantasmi no no stai tranquilla stai tranquilla orso orso ehi ma che succede? ma siete pazze? rotta e fonda io stavo dormendo così bene stavo facendo un sogno bellissimo ero praticamente in una vasca di marmellata orso facci entrare via largo aiuto aiuto chiudi 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 ci sono i fantasmi chiudi chiudi a l'albero in un futuro a